Primo giorno di allestimenti, iniziamo come abbiamo fatto con lo smontaggio della mostra precedente qui si vedono i quadri che stanno per essere tutti imballati e si vedono i primi assaggi dell'allestimento le pedane, i pannelli, stiamo predisponendo i video e si può già intravedere dove c'è spostata l'installazione e in fondo si comincia a vedere il grande murale qui verranno messe le varie opere e in mezzo è realizzata un'altra installazione vi aspettiamo numerosi, vera di 13 con una grande mostra un grande percorso che parte da qui